Ciao ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus, siamo o almeno credo di aver capito quasi in direttura di arrivo ma non ci dimentichiamo sempre dei saluti, sempre su Lego Star Wars, il risveglio della forza e partiamo con lui, Ercalifo, Lori23, The Game World noi abbiamo Alessandro Polverino, Kylo Ren02 e By Joby, spero di averlo pronunciato bene comunque bro, spero che questo nuovo episodio vi piaccia e andiamocelo a spulciare tutto quanto, dai per il viaggio all'iperpropulsore servirà tutta la potenza possibile, potete pensarci tu e Chuba, è vero? nessun problema vabbè, se lo dice a Finn, nessun problema, che fai Finn? Giri su te stesso, sei impazzito vabbè, abbiamo un po' di... eh ok, giriamoci che è meglio perché così ho una visuale non proprio bua bellissimo questa... che è successo? oh, alla riscosta si è sblocchiato, oh, bellissimo andiamo quindi avanti, è fantastica questa Millennium Falcon che è successo? le indirizzo all'energia da sistemi non essenziali ok, Jansulo, però stai calmo, sei un pochettino troppo euforico, eh vai ok, vai, vai, schiaccia, schiaccia, cioè tira al massimo, eh, ok, iniziamo che ti costruisco? ho anche altri pezzi che dobbiamo rimontare, ho là, ho là ah, anche di qua, ok, fantastico quindi mi sa che dobbiamo iniziare da qua l'energia si disperde prima di arrivare all'iperpropulsore ok, sei calmo però, eh, aspetta un po', vai vai vediamo un po', ok così va bene vai aspetta un po', guarda che ce la facciamo ce l'abbiamo fatta ma quale è il posto soleggiato? ma che dici? ok che è quel fumo là? siamo tranquilli qua, mica precipitiamo vai Finn, vai, vai da quest'altra parte eccoci qua, siamo ok, quindi base Starkiller, vai certo iniziamo col sabotaggio dalla Starkiller, vai si gioca e andiamo con l'episodio HATE 8 soprannominato il sabotaggio della Starkiller beh, l'avevamo già letto anche prima però lo ripronunciamo ok, leggiamoci questa storia così ci chiamo di capire bene a che cosa si tratta dopo aver avuto la conferma che la loro base delle operazioni è il prossimo obiettivo della Starkiller la resistenza mette in atto un piano disperato per distruggere l'immenso super arm ma aia incapace di sorpassare gli scudi difensivi intorno alla Starkiller Han Solo, Finn e Giubecca tentano un audace piano di infiltrazione ok, quindi questa missione possiamo manovrare sia Han Solo, poi Finn e Giubecca vi ricordo che Finn finalmente ha preso possesso della sua spada laser chissà se assumerà un pochettino più di coraggio perché come avete visto è un po' cagasotto vabbè però secondo me adesso caccerà un po' di coraggio e sarà sicuramente più potente chi può dirlo dai, entriamo nella mission come pensi di entrare? gli scudi hanno una frequenza che respinge qualunque cosa viaggia al di sotto della velocità stiamo per atterrare a velocità luce Giube sta pronto io starei attento è anche parecchio ci sta addio cos'è? ok, sano e salvi, è arrivati aia ma che già è morto davvero hai freddo? il tunnel di allagamento è oltre quella che resta entreremo da là ok, ma che sono ossigosi? ragazzi non basterà una mano di vernice per ripararlo ma il blaster ce l'hai, no? eh, giustamente non credo proprio che servirà servirà, basterà ok, iniziamo che sono sti cosi? che è? uh, bella questa uh, fantastico ah, io pensavo che volasse invece no, saltella riesci a tagliare lì? il settore 47 è da quella parte ah, dietro quella grande roccia aspetta aspetta che mi viene i miei emorroidi a vederti saltare così va bene, dai allora, che dobbiamo distruggere? scusami, questo qua no, qua non credo che dobbiamo distruggere aspetta, ho quasi rotto qualcosa uh, Yann, avevi detto che dovevamo tagliare qualcosa ma non ho capito cosa aspetta, ah, forse qua dici aspetta, hai ragione, hai ragione avevo visto bene qua un bel circolare uh, vado a fin, guardalo bravissimo, che c'è? che c'abbiamo qua dentro? aspetta, eh io penso che dobbiamo costruire porcavolo, l'abbiamo distrutto porcavoletto, vai che dobbiamo costruire? ah, dobbiamo rompere qualche altra cosa ma qua riesci ad agganciare? aspetta, aspetta di qua vai, aggancia un po' eh, infatti, tipo bravo a te ok, vediamo cosa dobbiamo costruire che è un cannone oh, ok ho capito ci salto io ci salto io aspetta, aspetta se mi fai saltare aspetta, ok guardati che ti combino guardalo, guardalo ok eh, aspetta Giubecca, c'hai ma chiamalo Giubecca come vuoi chiamare Giube? cosa si offende? vai togliamoci da vicino porcavolo uh, che bella caverna no Giubecca fammi piacere noi qua uh, stiamo sprofondando non guardare giù ragazzo porca palletta ragazzi vengono a me le vertigini figuriamoci a loro ragazzi vi vi rendo la vita un po' difficile vai eccovi vi sparo così vediamo un po' se ce la fate a passare vabbè andiamo ok quindi ho ancora le sentinelle io credo che ci sia bisogno di qualcuno che ci dà una mano aspetta vediamo se qualcuno ci dà una mano vai 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 aspetta ci esco quasi ok aspetta un attimo fin vai ok così l'abbiamo distrutta vai no devi costruire qua è la scala così riusciamo anche a salire ci siamo? vai ok bravo ragazzo ah aspetta che qua c'è bisogno vai gibecca vai tirami tutto giù vai un po' di for aspetta di qua via mazza è difficile aspetta ma che cavolo scusami gibecca che ora non ho capito come si fa ecco ma scusami ah ok non avevo capito perché paletta ragazzi finché non siamo fuori dalla zona valangre ma gibecca è una potenza eh ma che miseria guardate qua quanto è agile attenzione gibecca perché ti vedo un po' in difficoltà qua eh vediamo di non precipitare fatto quasi e vai bravo ah ma anche gli altri ce la fanno vabbè allora non è che sei tanto forte ricorda non devi aspettare che sparino per premi va bene ok allora che abbiamo ok quindi credo che dobbiamo prima spararli e distruggerli penso no che è sto cosa ma non spara aspetta che non ho capito perché pensavo che che lo potessimo utilizzare per sparare invece non credo proprio ok allora iniziamo da quest'altra parte scusami eh tiriamo prima qua che c'è ma che è un po' pazzo di neve ma che cavolo non è che ho capito eh scusami aspetta aspetta che forse ho capito vai ah ecco cosa devi fare bravissimo vabbè vai ah vabbè c'è un martoncino rosso ma che è una sala per una sala pranzo che è qua vabbè ci becchiamo il martoncino se no che cavolo ci siamo saliti a fare ok allora che abbiamo da costruire c'è questo qua ah anche questo altro qua ok costruiamo ma questo questo pensa che dovrebbe ma che generatore ragazzi vi sto ammazzando tutti aia ok perfetto quindi pensa che a questo punto possiamo costruirlo l'altro centrale no aspetta un po' vai vai adesso dovrebbe sparare vai vai spara spara cosa no eh scusami 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 aspetta aspetta che adesso ci pensiamo noi purtroppo vai fin vai uh abbiamo la possibilità di fare una fantastica mossa aspetta che riesco ad ammazzare anche l'ultima sentinella così ci becchiamo qualcosa sicuramente che c'è qua rotta ok allora che dobbiamo costruire una cosa qua centrale perfetto una calamita gigante uh attenzione vediamo chi ha la mira migliore ok ma sicuramente fin no ok ok aspetta chi manca abbiamo beccati tutti oh perfetto quindi via libera già sblocchiato ma di qua che c'è non c'è niente guarda sei infortunato perché in questo momento non ci interessa passare avanti ma sicuramente vi ammazziamo tutti poi quando torniamo nella seconda volta quindi enteriamo da quest'altra parte vai chi vai vai re ah devi saltare vai scusami re non avevo capito oh cavolo sento che sono là ok ce la fai saltare ce la fai ok bravo costruisci questo apposito che è ancora spostati bellissimo ragazzi stiamo arrivando mi sa che ti sei bruciato agli ha bruciato la mano praticamente eccoci qua avete visto che che ridevi prima che dicevi non ho capito e qua non credo che ci puoi entrare perché ci servirebbe aspetta un giubecchia vai vai sfondiamo tutto prego ragazzi enterate ok possiamo entrare vai grazie prego piano però sai che almo mamma mia come sei antipatico che è sta cosa ma che cavolo che è che sta sparando non capisco cosa sia sta cosa vabbè che è tipo una sorta di albero di natale ma o c'era qualcuno che è l'unico modo per salire ok e infatti gli accoppiatori di energia per impedirci di usarlo si ok aspetta penso che dobbiamo distruggere qua qualcosa eh penso no che è no ma io pensavo che dobbiamo distruggerlo no allora qua penso che forse ci serve a giubecca da lanciare qualcosa penso no yes vai vai gi ecco spostatevi da vicino che forse è meglio no dammi fin vai fin devi montare oh vai ah due pezzi ci stanno là e là iniziamo da qua vai vediamo se abbiamo fatto qualche errore no presto colleghiamo quei cavi lassù per deviare l'energia ok aspetta un attimo che aspetta arrivo 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 vai veloce vai veloce bellissima questa cosa eh ce l'abbiamo fatta contatto si si yes yes ok ah ok si sempre loro eh sono si aspetta ok outfit bianco yes ci siamo le cose si faranno interessanti lassù cioè che vuol dire che ci fanno il culo messaggi si oh che bella scensura enteriamo tutti quanti e andiamo che c'è Yann te la fai sotto oh forza ragazzi forza oh c'hanno anche l'alitino per il freddo ora serve solo una grossa carota per fare la spada laser che è sta carota oh come siete acquattiti ragazzi tutti acquattiti così come dei topi ok il drago è scappato quelli non ci hanno visti siamo tranquilli l'ultimo segnale dei droidi arrivava da quell'altura tutti fuori bene vuol dire che non cercheranno qui ok ok se tu oh attenzione ragazzi che situation vado di qua si ok sento dei rumori strani e mi dirà un po' d'aiuto e ma lui passa perchè lui si mette la maschera antipuzza e passa si aspira tutta la puzza e vai ok vado giù aspetta che c'è qua giù ragazzi fatevi spazio perchè devo costruire o devo realizzare qualcosa vediamo un po' che c'è qualcosa qua che possiamo fare ah non va bene aspetta qua bisogna costruire qualcosa una bandierina qua c'è una manovella infatti eccola qua vai perfetto gira 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 ok grazie prego ok giù becca ce la fai no ok credo che qua non possiamo passare perchè questi ci sparano e ci ammazzano andiamo un po' giù infatti qua dovresti sbloccarlo oltre a cercare di non provocare una balacca oh eeeh quello il gesto è che ci aiuta tu poi facciamo costruire a lui vai che è sta cosa uuuuuh fantastica sta cosa ok ragazzi mi sa che c'è la via libera vai vai facciamo anche in fretta così ci sbagliamo ok vai gancia uuuuuh a uso tarzan ah no qua ci vuole yan vai yan solo vai attenzione di qua vai proviamo la situazione dove sta ok ok trovato che c'è la ah ok devi sparare c'è la pistola yan solo si pensa di si eh yes vai che cade attenzione sotto vai vai oh no e adesso ma penso che ah no è sicurissimo non credo che ci serviva quella cosa ma è sicurissimo in che senso aspetta ah perché gbk non dovrai lamentarti a lungo ragazzi che facciamo adesso eh il trenino ma poi ne eravamo già passati vabbè dai andiamo avanti che poi ah fai bene guarda fai molto bene uuuuuh altra bandierina costruita ragazzi serve una mano eh yan vai vai yan a chi è che sta parlando ok c'è qualcosa qua dentro che ci ah aspetta vai giu becca vai togliamoci da vicino che è meglio aspetta oh dammi questa mossa ah che peccato pensavo che ci fossimo quasi che è qua aspetta mica ci serve giu becca qua no 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 non ci serve giu becca vai fin vai ammazziamoli tutti vai ok attenzione al fuoco eh quello spiega il centro sarà il nostro ingresso se riusciremo ad aprirlo ecco ottimismo iniziamo con l'ottimismo ragazzi forza ok quindi qua possiamo costruire la prima cosa vai che c'è da costruire bandierina ok le stiamo beccando tutte queste bandierine allora qua c'è un fuoco quindi l'abbiamo c'era un fuoco e l'abbiamo spinto aspetta un po' ah ok ok col computerino chi c'abbiamo qua chi c'è bisogno vai fin ah sempre la solita storia outfit bianco ok ok siamo noi via libero oh cavolo che vuole questo ah si è distrutto quindi siamo tranquilli allora ho qua ho qua iniziamo da qua vai che c'è qua aspetta ok non c'è anche l'altro aspetta eh no dammi gli anzolo che lo vedo più preparato vai andevi montare l'altro vai salta di qua vai 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 prima di domani eh però eh vai vai questo c'ha le gambine corte ok a che serve questo sfiato per le puzze lascia perdere ho indovinato eh se c'è la schiala spero che non ci sia un dayanoga là sotto ma speriamo di no eh vai scendiamo rapporto arma carica fra 15 minuti signore che mansioni avevi qui servizi niente servizi genici e come sai disabilitare gli scudi non lo so sono qui per cercare lei contano su di noi porca paletta l'intera galassia conta su di noi solo qualcosa ci vendiamo useremo la forza non è così che funziona la forza non sei un pappasso per essere un assaltatore gli scudi che è quello porca paletta ragazzi vedo veramente che siamo super rovinati comunque spero che vi sia piaciuto vi ringrazio se vi commentate se vi è piaciuto ci vediamo alla prossima video e bye bye grazie a tutti